Allora, domani gioca Ronaldo, Ciesny, Chiellini e Pjanic. Poi gli altri, i due terzini, da una parte Cancelo, dall'altra Alexander. Poi gli altri, devo decidere, no, devo vedere a metà campo chi fa giocare. Comunque stanno tutti in buona condizione, perché Manzuki c'è arrivato, credo, l'otto. Si è già allenato, Manzuki è già arrivato in condizione, poi secondo me quello lì correva anche in ferie. Uno mi ha smesso di correre. Sono giocatori che hanno dei motori diversi, giocatori che vanno, raggiungono la condizione perché hanno delle motivazioni importanti dentro. Quindi più o meno, chi più o chi meno, diciamo abbiamo una buona condizione. Quindi domani chi farà mezz'ora a finale, chi farà 50 minuti, lavorare. E poi l'unica cosa che conta nel calcio è vincere le partite. Perché domani ci sono i tre punti e domani bisogna prenderli. Quindi bisogna fare una partita di una buona intensità, di un buon approccio a livello mentale, perché la prima partita di campionato è come, dico sempre, dopo le soste, dopo la sosta di Natale, è sempre un punto interrogativo. Ci sono anche le altre squadre che sono migliorate. Vedi l'Inter, vedi il Milan, la Roma stessa, in Napoli sono rimasti gli stessi, la Lazio comunque è sempre una squadra che lotta. Quindi è una stagione difficile. Per noi, non dico chi è più difficile, diciamo che bisogna subito mettere da parte quello che è stato questo periodo di eccitazione per l'arrivo di questi grandi giocatori e del più grande e ritornare con i piedi per terra, perché domani, quando alle 6, alle 18 inizia la stagione, troveremo un Chievo che ha voglia di fare un'impresa contro la Juventus, che è data la strafavorita nel campionato e favorita in Champions League. Sono la Juventus quest'anno, il quinto anno, sono molto orgoglioso di essere la Juventus per il lavoro che insieme alla società, insieme a tutti quelli che hanno lavorato con me, è stato fatto e che dobbiamo continuare a fare quest'anno. Bisogna fare un'annata giusta e importante, e poi dopo, come tutti gli anni, a marzo o aprile decideremo se continuare ad andare avanti o prenderemo strade diverse. Io alla Juventus sto bene, l'unica cosa che conta però da ora è fare risultati, perché dopo quello che contano nel calcio sono risultati. Quindi parlare di manager all'inglese non lo so, è il quinto anno della Juventus e sono molto molto contento, perché sono molto in sintonia con la società. Si sono stati fatti dei passi in avanti, la qualità della squadra è migliorata notevolmente, l'autostima a livello europeo è cresciuta tantissimo. Non si sa mai che magari quest'anno tocca a noi vincere la Champions, ma quello è un problema che avremo prima di dicembre, passando il girone e poi a marzo ora abbiamo il campionato e soprattutto bisogna iniziare una stagione nel migliore dei modi, con l'atteggiamento giusto, con una partita da una squadra che capisce il momento. In questo momento non abbiamo la condizione fisica ottimale, quindi bisogna stare belli e ordinati. Domani una bella partita ordinata.